Ciao, sono Alessandra Sanfelici, in Master Surlabs mi occupo dell'attività di A8 Activate, nello specifico mi occupo di movimento e penso che l'attività motoria sia molto importante e che tutti quanti si debba fare dell'attività motoria con costanza e con regolarità, non solo per l'aspetto sociale perché effettivamente quando si fa attività motoria spesso in gruppo è bello è bello avere anche la componente sociale quindi condividere con altre persone momenti non solo per la componente psicologica perché fare attività motoria stimola le endorfine quindi ci fa sentire bene e ci fa stare bene non solo nel momento in cui si fa ma anche nelle ore successive e soprattutto ci aiuta ad attivare il nostro corpo nella maniera corretta quindi tutti i processi che che succedono che ci sono all'interno di noi aiuta a prevenire le malattie che possono le malattie primarie quindi si fa prevenzione primaria con l'attività motoria ovviamente soprattutto in questo periodo molto particolare in cui viviamo un corpo in movimento è un corpo che sarà molto più sano e stimolandolo anche per le difese immunitarie che penso sia fondamentale in questo periodo quindi ti dico che devi iniziare a muoverti a fare movimento farlo nella maniera corretta quindi con dei professionisti che ti supportino nel tutto quanto in tutto quello che tu andrai a fare e farlo con regolarità e con costanza. Ti aspetto con A8 Activate per una prova. Ciao!